Ciao a tutti! Siete pronti per un viaggio emozionante? Oggi visiteremo il mondo della danza classica e della perseveranza, con una storia che vi lascerà senza fiato. Vi presento Bavia Vijayan, una ballerina che ha lottato con la scoliosi, una condizione spinale debilitante, per tutta la vita. Nonostante gli ostacoli che la vita le ha posto, la 35enne non ha mai rinunciato alla sua passione, ha continuato a danzare, imparando a convivere con il dolore e ad adattarsi agli ostacoli del suo corpo. La ballerina classica Bavia Vijayan ha una storia di ispirazione unica. Grazie al suo talento naturale, Bavia ha iniziato a studiare danza classica fin da giovane età e ha ottenuto il diploma in Moiniattam all'età di 15 anni presso il Kerala Kalamandalam. È stato proprio in questa scuola di danza che è stata notata per la prima volta una simmetria nella sua postura e successivamente diagnosticata con una curvatura a forma di S nella sua colonna vertebrale. Essere affetti da scoliosi significava smettere di danzare per il resto della sua vita. Nonostante gli anni di fisioterapia e il corsetto per correggere la curvatura laterale e la rotazione al fine di sostenere la colonna vertebrale, Bavia ha continuato a praticare la danza, esercitandosi per ore ogni giorno, sapendo che per eccellere nella danza classica è necessario avere un corpo perfettamente allineato. Anche quando, dopo aver avuto il primo figlio, la sua curva spinale è aumentata al 48%, la scoliosi l'ha costretta ad abbandonare il palcoscenico per un po' di anni, non si è arresa e nel 2017 ha cercato aiuto da un esperto ortopedico, Ranjit Unnikrishnan, che le ha consigliato un intervento correttivo. Dopo un'operazione di 10 ore, la signora Vijayan, dopo soli sei mesi è tornata in scena con una performance al Tempio di Guru Vayur. Durante il lockdown, ha fondato la sua scuola di danza a Kottayam. Bavia Vijayan ha trascorso l'intero periodo di lockdown Covid-19 praticando danza con tutto il suo cuore e anima. Non solo per migliorare le sue capacità, ma per la libertà di movimento che la danza le dà e durante il lockdown, grazie al sostegno del marito e dei figli, ha fondato la sua scuola di danza a Kottayam con il marito e i due figli. Ora Bavia utilizza la sua esperienza per ispirare altre donne con la stessa condizione e conduce sessioni di sensibilizzazione presso istituti educativi. Le donne che soffrono di scoliosi la contattano spesso per chiedere consigli su come gestire la vita matrimoniale e avere figli, ma Bavia le rassicura raccontando la sua storia di sfida alle avversità e perseveranza per vivere una vita felice. Iscrivetevi cortesemente al mio canale e condividete i video per farli conoscere ad altre persone che hanno bisogno di un incoraggiamento. Sarebbe fantastico poter toccare il cuore di molte persone e aiutarle a superare le difficoltà della vita. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza.